in diretta dal balcone di casa mia come detto la mia pagina in aggiornamento la mia pagina sportiva quale è stata caricata dei documenti sul Grand Prix de Monaco con l'alba d'oro dei vincitori tra cui ad esempio 2004 Trulli 96 un Olivier Pali sotto l'acqua ovviamente anche Schumacher 3 di Monaco però era Senna, è Senna tutt'ora con 6 vittorie Hamilton a quota 3 l'ultimo in ordine di tempo che ha vinto a Monaco una biografia di Ascari sulla mia pagina grande rivali fan che appunto a Monaco fece un incidente un po' curioso all'ice dopo il tunnel finì a mare una carolata di gol di Francesco Totti se siete voi il più bello personalmente preferisco quello con la Sampdoria al volo di sinistra poi ce ne sono tanti, diciamo dal pallonetto alla Lazio contro Peruzzi al tiro che aveva sempre l'Udinese il gol col Torino nel quale scartò partire il difensore il gol nel derby nel quale si finse camera ma insomma il capitano giallorosso ha tante gemme seguiteci sulla pagina sportiva Gianclato27 vi saluto dal balcone di casa dalla quarantena Ciao